Niente, è una mano con un occhio che probabilmente ucciderà tutta l'umanità. Eh, ma come fa ad accendersi? Con una... Cioè del circuito dentro, vabbè, senza che lo apri. Che si vede da qui con dei fili di rame, qui è collegata la batteria, e il led ha toccato con dello scotch ai fili di rame. Ok, bravo. Tu sei? Federico. Federico, bravo.